Salve, buongiorno a tutti, Alessandro Cortesi, sono il responsabile di Mercer Italia per la parte Financial Services, Private Equity ed M&A e da questa mattina stanno rilanciando sul mio intervento sul People Risk, quindi mi sembra un'ottima testimonianza su quanto la tematica sia attuale, sia abbastanza vissuta. Poi nel preparare un po' l'intervento io mi facevo anche una domanda, ma che cosa ci vedono le persone nella parola, nell'espressione People Risk? Cioè se tutti noi riflettiamo su questo tema, a cosa stiamo pensando? Perché è un tema molto ampio, molto sfaccettato, ci sono tante cose che facciamo e che studiamo come Marsh McLennan, perché People e Risk mette insieme due dimensioni che sono all'interno del gruppo, quella Mercer che è People, quella di Marsh che è tipicamente su Risk e quindi è un tema che per noi è molto molto caro. E poi c'è un altro motivo per il quale questo tema ci è caro, perché come classe manageriale, professionale, consulenziale, noi abbiamo una responsabilità che è quella di tradurre ciò che è Risk in Opportunities e quindi andare a capire come degli elementi che sono oggi insiti nella situazione che stiamo vivendo. Abbiamo capito che le nuove generazioni erano un problema anche per esiodo, prima ce lo diceva Gianluca, quindi lo stiamo vivendo tuttora in questo momento. come possiamo tradurre tutto questo e comprendere, leggere il mercato e quello che sta succedendo in modo differente. Per fare questo, e invito Gianfranco Ghimirri sul palco, Chief People Officer di Sace, ci siamo detti chi meglio di Sace ci può raccontare il tema del rischio e vi racconteremo un pochettino quello che è l'esperienza, preferisci qui o seduti? No, come ti porti? Andiamo così, se è più dinamica. E quindi andremo un po' a raccontare quella che è l'esperienza di un'azienda che ne sa tanto di rischio e che ha vissuto e sta vivendo un cambiamento molto significativo. Gianfranco, ci racconti un po' chi è Sace e che cosa state vivendo ora? Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì. Allora, sì, parliamo di rischi ma anche di opportunità, anche perché noi siamo cresciuti in un contesto culturale di rischio adversi, ho fatto rischio assessment per vent'anni e oggi dobbiamo avere più rischio attitude anche come competenza. Ma partiamo da Sace. Sace è tradizionalmente l'export credit agency del governo italiano, quindi è l'azienda che ha la missione di supportare l'export italiano, quindi l'internazionalizzazione delle imprese. Questo è nel suo DNA, ma dal 2020 lo scopo si è allargato al mercato domestico. Si è partiti con un intervento di tipo solidaristico durante il Covid con Garanzia Italia e poi guerra russa-ucraina supporta Italia, quindi con delle garanzie che hanno aiutato a tenere in piedi il sistema paese in quel momento. E da quel momento lo scopo si è allargato al mercato domestico e quindi Sace ha la missione di guidare l'ecosistema delle piccole e medie imprese verso una transizione green e digitale. Questo ha completamente cambiato il perimetro perché da un approccio abbastanza sartoriale si passa ad un approccio industriale, una cosa è servire una numerica intorno alle centinaia di imprese che investono, soprattutto grandi, che investono sui mercati internazionali. Un altro film è supportare le piccole e medie imprese, quindi nel numero di 65.000 e quindi ripensare il modello di business, ripensare il portafoglio, come offrire soluzioni finanziarie in 48 ore, quindi grossa spinta sulla digitalizzazione, quindi cambiare anche quelle che sono le skills e il way of working all'interno dell'organizzazione e anche educare il sistema delle piccole e medie imprese a un modello di sostenibilità che se non digerito le piccole e medie imprese, qui c'è qualcuno che lavora nel settore bancario, impedirà a loro di accedere al credito nei prossimi anni. Quindi è un tema non solo di competitività ma anche di sopravvivenza. Nella People Risk Survey, tra l'altro trovate un articolo degli estratti in quello che vi abbiamo lasciato negli articoli Mercer con Harvard Business Review, nel fascicolo che avete sulla sedia. Uno dei temi che viene richiamato come People Risk è l'accelerazione della digitalizzazione che poi tutto sommato stamattina abbiamo citato come intelligenza artificiale, come la richiesta digital delle nuove generazioni, cioè ci sono molte sfaccettature. Un'altra dimensione di questa accelerazione è quella delle skill per gestire un mondo più digitale. E quindi torniamo a upskilling, reskilling, elementi che sono stati più volte citati. Voi su questo che tipo di situazione vi state trovando a gestire e quanto ci sono professionalità in Sace che comunque ha un tipo di professioni molto sviluppate, molto sofisticate. Quanto pensi che impatterà questo mondo nuovo digitale, più veloce, artificiale? Più che pensare, i dati ci dicono che il financial services sarà uno dei settori più impattati dall'intelligenza artificiale generativa. Il World Economic Forum lo indica nei primi tre. Addirittura il ruolo più impattato nei prossimi anni sarà quello di insurance underwriter che è il nostro ruolo principe e anche più pregiato. Quindi parliamo di impatto non solo su ruoli e task rutinari standardizzati e a basso valore aggiunto ma ruoli di alto valore aggiunto. E poi ci sono i dati, questi sono trend, possono essere più o meno fallaci ma ci sono i dati reali che ci dà LinkedIn, ci sono alcuni colleghi in sala. Sono dati reali, ci dicono che il financial services è il settore nella quale c'è il più alto numero in termini di crescita esponenziale di skill regali all'intelligenza artificiale generativa richiesta nei job posting ed è anche il settore nel quale le persone e i loro profili LinkedIn stanno aggiungendo competenze acquisite nell'area dell'intelligenza artificiale generativa. Quindi c'è un impatto esponenziale che preoccupa ma anche entusiasma in termini di come cambierà questo settore nei prossimi anni che ci impone una sfida di grande trasformazione culturale ma anche di come tenere la nostra workforce future fit mettendo le persone al centro. L'organizzazione giusta per andare a gestire questo tipo di cambiamento questo tipo di nuove modalità di lavoro questo focus sulle skill che raccontava prima anche Laura Innocente è la stessa di prima? State facendo un cambiamento? Noi abbiamo, ci siamo presi il rischio di fare un cambiamento profondo cercando di implementare una skill based organization end to end che vuol dire end to end? Cioè concettualmente shiftare il paradigma dalla centralità del ruolo alla centralità delle skills. Quindi passare dal concetto uno a uno, io sono il mio ruolo a un concetto mettere la persona al centro come unico portafoglio di skill interessi, passioni e purpose che contribuisce all'organizzazione una logica one to many cioè da un punto di vista organizzativo noi abbiamo il 70% organizzazione che non ha più ruoli tradizionali quindi lo staffing e il de-staffing delle operazioni, quindi dei progetti avviene esclusivamente sulla base delle skills quindi skills che hai, progetto su cui vai a lavorare poi sulle funzioni di staff abbiamo un modello 70-30 quindi il ruolo è un Lego cioè non è più un monolite ma è un cluster di pezzi di lavoro dove per il 70% della tua capacity che è un'indicazione, può essere l'80, può essere il 50 secondo i periodi tu lavori sul tuo ruolo pre-prevalente lo chiamiamo noi e poi lavori su progetti, task o pezzi di lavoro fuori dalla tua funzione quindi qual è il grande vantaggio di questo modello? noi abbiamo una locazione dinamica delle risorse che ci permette di incrementare la produttività di circa il 50% è il famoso tema che dobbiamo servire 65.000 clienti e non 200 ci permette attraverso lo sviluppo di profili multi-shape anche di garantire una rotazione interna che è molto molto più elevata e quindi rispondere all'esigenza di non voglio stare dieci anni in un ruolo ma voglio continuamente andare a muovermi all'interno dell'organizzazione ma anche rispondo a un'esigenza molto forte di democratizzazione dello sviluppo perché le scelte di dove lavorare sono funzionali allo sviluppo che voglio avere e anche un concetto di ownership della carriera questo come si costruisce? si costruisce attraverso un modello skill based che arriva quindi di tassonomia, tutto quello di mappatura di quelle che sono le skills degli individui non in relazione al job che performano ma in quanto individui quindi noi abbiamo mappato le skills di Gianfranco in quanto Gianfranco che ha il suo set of skills in base alla sua esperienza ma anche alla sua esperienza di vita e matchare queste skills su n progetti, su n task la strategic workforce planning anche questo si basa sulle skills io sono d'accordo col collega o meglio sono d'accordo col collega fino a sei mesi fa oggi però c'è l'intelligenza artificiale che sì ci impone una velocità maggiore all'adattamento ma ci dà quei dati perché poi l'intelligenza artificiale generativa è big data ci dà quelle informazioni in tempo reale per identificare le emerging skills e quindi creare uno strategic workforce planning che ci permette di essere costantemente aggiornati ci permette anche di fare costantemente il match tra le skills che io posseggo le opportunità che ho all'interno dell'organizzazione e ci permette anche di avere, qui arrivo al punto forse più evolutivo che stiamo sondando, il tema carriera e compensation uno dei temi che Merser ha mostrato una domanda perché è molto simile al modello che abbiamo in consulenza hai un'unità centrale che fa staffing, resourcing, planning e controlling come vengono poi allocate le persone operativamente e poi qual è il ruolo invece tradizionale il capo immagino organizzativo che comunque avrai nella tua struttura di primo e secondo livello? Allora noi abbiamo una struttura che si chiama competence center che fa sostanzialmente un'analisi della capacity disponibili e delle skills tenendo in considerazione però quelle che sono anche i desiderata delle persone cioè ogni persona avendo l'ownership e la carriera qui arrivo al modello di carriera che abbiamo noi abbiamo creato un modello alveare che è totalmente trasparente cioè c'è una totale trasparenza, questi sono i ruoli organizzativi ognuno di questi ruoli ha uno skillset e io attraverso la tecnologia posso non solo matchare il mio set di skills su quello richieste da ruolo e quindi decidere voglio andare a lavorare su quel progetto piuttosto che su quell'altro ma anche in una modalità più lungo termine io vorrei diventare quello e la tecnologia mi ti dice io sono distante da quel mio dream job questo set di competenze ti suggerisce anche come con quali soluzioni di sviluppo andare a lavorarci partecipa a questo progetto, fai questo learning impact partecipa a questo network eccetera ti dice anche una cosa in più si chiama career navigator o io lo chiamo il ways della carriera ti dice anche attenzione se tu vai verso quel job devi sapere che nei prossimi tre anni quel job è low demand perché le indicazioni sul mercato dicono che quel job sarà non crescente in sviluppo ma sarà decrescente se invece prendi un'altra direzione all'interno di questo alveare sai che lì c'è un oceano blu poi rimane la tua scelta, la tua ownership ma io ti do elementi e dati ma chi decide prendo Marco, prendo Gianfranco, prendo Sara e va lì? cioè la decide una macchina, la decide un soggetto, c'è un comitato chi lo decide? Lo decide il singolo? allora sul business, la macchina ti dà le informazioni sul business decide il capo progetto in accordo col capo del competence center quindi competenziatici ho questa capacità, ho queste competenze disponibili queste persone hanno espresso questa desiderata su tutte le informazioni che ti ha il sistema qual è il ruolo del capo per rispondere a uno sfuggo da questo? il ruolo del capo è a questo punto il ruolo del coach e del career advisor cioè il capo sul business non lavora più con le sue persone ma è lui che è responsabile dello sviluppo quindi dove vuoi andare, quale competenze puoi sviluppare ti suggerisco guarda queste operazioni sono quelle che posso permetterti di svilupparti queste competenze piuttosto se parliamo di competenze soft ti suggerisco altre soluzioni e poi c'è il compensation qui insomma ne stiamo parlando con Alessandro cioè andare verso un compensation che non è più solo job evaluation ma che definisca quindi il range retributivo anche in base al valore delle skills sul mercato perché poi da un punto di vista della persona ok qual è il ritorno che io ho a investire continuamente sulle skills a muovermi all'interno dell'organizzazione non in senso verticale ma all'interno di un alveare ok what's in it for me dal punto di vista di compensation quindi come andare verso un modello che stiamo immaginando ibrido dove alla tradizionale pesatura delle posizioni c'è anche quanto valgono le tue skills sul mercato e quanto io te le riconosco in termini di compensation sia sulla RAL e già oggi 50% del modello di bonus è sulle skills che hai sviluppato quindi questo permette di veramente mettere al centro le persone di democratizzare i piani di sviluppo tutti hanno un piano di sviluppo personalizzato quindi noi abbiamo chiuso i percorsi di high flyer insomma talenti abbastanza esclusivi quindi adesso è una cosa che è totalmente democratizzata e permette di debossificare la carriera nel senso io ho l'ownership della mia carriera guidata attraverso il supporto di HR line manager e tecnologia che ti danno informazioni, suggerimenti fungono come advisor e ti guidano in una carriera che diventa dinamica C'è un po' di dilemma dell'innovatore perché tante cose le state sperimentando alcune cose sono più facili da far digerire altre meno poi un'altra cosa che mi hai raccontato e che ci racconterai è anche lo shift rispetto ai modelli di talent management cioè quanto è oggi più importante fare upskilling e reskilling di chi in azienda c'è già rispetto a essere bravi a prendere sul mercato tramite il recruiting però c'è un'altra cosa che ammonte di tutto questo ragionamento di tutta questa fatica rispetto al cambiamento qual è il coinvolgimento del business e per business parlo sia del commitment dell'amministratore delegato rispetto a questo ma poi soprattutto di quanto prime, seconde, terze linee organizzative stanno recependo e hanno recepito questo tipo di approccio e poi delle persone noi sappiamo in ogni modello di cambiamento il 60-70% di persone sono observer rispetto a cose che succedono come state portando queste persone a voi in un cambiamento di paradigma che non è solo modificare una struttura organizzativa? No, allora, questa è la vera domanda nel senso che ammonte di tutto quello che vi ho raccontato c'è un grande processo di trasformazione culturale che è nato da una co-creazione quindi in cui c'è stata una compartecipazione di tutta l'organizzazione alla ridefinizione del purpose della vision, della mission dei valori e della leadership del modello di leadership che ha sostanzialmente avuto il buy-in di tutta l'organizzazione rispetto al passaggio di un modello che io chiamo leader-leader model di leadership diffusa dove effettivamente noi abbiamo messo al centro la cultura organizzativa la trasparenza, la fiducia la sperimentazione la cultura del feedback la cultura dell'errore la learning agility e quindi per dirle come il manifesto di Netflix freedom, responsibility, empowerment e accountability quindi rilasciare il controllo è stata la grande scommessa che abbiamo fatto nel mentre accrescevamo le competenze delle persone quindi il vero trade-off è rilasciare il controllo quindi dare empowerment alle persone svolgere il ruolo di leader in maniera diversa come ha detto benissimo prima la collega quindi il leader deve il signor leader deve ispirare rispetto a quello che è il purpose deve overcomunicare quella che è la direzione strategica perché poi chi prende le decisioni tutti i giorni sono le persone a qualsiasi livello di organizzazione potevano avere chiaro qual è la strategia verso la quale andare rimuovere i blocchi che impediscono ai team di realizzare gli obiettivi e poi continuamente lavorare sullo sviluppo delle persone questo è il framework dopodiché rilasciare il controllo fare in modo che le persone decidano commettano errori imparino crescano e in questo modello è possibile creare una skill based organization è chiaro che non vi sto raccontando una storia senza mal di pancio senza problemi di transizione soprattutto sulle secondarie soprattutto un'azienda che faceva dell'expertise dice ma come sono il guru della canteristica riconosciuto in tutto il mondo ok sarà il guru della canteristica più qualcos'altro quindi non è è un aggiungere e quindi all'interno di questo framework però fare in modo che le persone vengano trattate come adulti e che ci sia una people centricity che sia che sia reale qual è stato il momento in cui hai detto forse ci stiamo capendo con il business c'è un evento o più eventi allora tu hai parlato di observer normalmente quando fanno una trasformazione di questo tipo ci sono gli early adopter poi ci sono quelli che sono contro e rimarranno contro lo saranno sempre però la maggioranza osservano cioè mi conviene o non mi conviene dove sta andando veramente l'azienda diciamo che l'elemento che ha fatto scattare il click è stato integrare questo modello nei processi nei processi di people management e quindi banalmente come ho accennato prima sul processo di performance management 50% del tuo bonus dipende da quanti schi sviluppi comincia a diventare mi sa che mi conviene se abbiamo creato dei people forum dove le valutazioni sono interfunzionali rispetto alle politiche meritocratiche e dove la discussione verte in gran parte su come agisce il modello di leadership quindi come agisce i valori quindi se non le agisco non ho nessuna chance di promozione eccetera insomma sono tutti interventi che poi impattano concretamente abbiamo il 360 quindi è tutto molto molto trasparente quindi al fine se io ci credo non ci credo se io voglio chiaramente avere un ritorno devo andare nella direzione che mi sta indicando l'azienda devo investire sulle mie skills devo lavorare in maniera trasparente devo lavorare in maniera collaborativa i silos non esistono più perché quindi è inutile combattere un modello piuttosto se non lo condivido faccio scelte diverse nel comportamento manageriale nel far sì che voi siate più un'unica sace rispetto alle vecchie strutture funzionali perché una cosa che ricordo di tanti anni fa dico della vecchia sace ma insomma con ovviamente il rispetto per tutto quello che c'è stato prima una forte appartenenza alla funzione cioè non sono di sace cioè sì appartengo a sace però comunque mi occupo del commerciale mi occupo dell'underwriting mi occupo del risk questo modello vi ha aiutato in qualche modo nella sua interpretazione a modificare questo tipo di impostazione ha forzato ha forzato perché noi pensate al business tutti fanno tutto quindi ti piace o non ti piace non esiste più la tua struttura di appartenenza per cui faccio l'acciaio faccio la canteristica faccio un altro settore eccetera il fatto 70-30 il fatto di continuamente lavorare su progetti interfunzionali ti costringe a lavorare con persone di altre funzioni e poi la grande internal mobility internal mobility era molto molto bassa e adesso c'è un internal mobility estremamente spinta perché parlando di Mac or By noi ci siamo dati come obiettivo che l'80% delle skills emerging ce le creiamo internamente e poi spingiamo anche qui ribaltando un concetto forte per cui io ascoltavo per imparare queste skills ogni 10 anni tutte queste robe questi totem un po' noi non privilegiamo il future fit quindi la learning agility al bagaglio di competenze quindi ho una vacanza all'echar si cambia una persona nel marketing bene ha le attitudini giuste si agisce i valori si gli faremo un piano di reskilling verrà a lavorare all'echar quindi questa mobilità interna poi alla fine rompe i silos perché nel momento in cui io mi trovo tutti i miei vecchi colleghi e altre parti dell'organizzazione allora non vivo più il mio team come famiglia e gli altri come abitanti del mio stesso condominio fatemi dire così ma chiaramente una rotazione spinta ti aiuta a creare un senso io lavoro in questo periodo per il gruppo è un team building continuo però chiaramente violento perché è stato un cambiamento violento non senza mal di pancio non senza disorientamento perché ricordo all'inizio quando tutti fanno tutto io sapevo fare una cosa 13 non le sapevo fare sono lavori su 14 linee di prodotto però adesso lo fanno e nessuno tornerebbe indietro quindi alla fine abbiamo avuto parlando di rischi il coraggio di prenderci il rischio di rompere un modello per implementarne un altro che è un po' quel coraggio richiamato anche nella famiglia professionale l'HR del cambiamento dello sfidarsi quello che è emerso anche nella round table iniziale io ti ringrazio molto su questo volevo lanciare un'ultima proprio sul ruolo dell'HR è stato detto molto e condivido tutto sul coraggio sull'autorevolezza sul parlare il linguaggio del business io rilancio dicendo perché lavoravo prima con un collega o tanto mi chiedono ma conosci qualche Char che è diventato CEO è il mio ex capo sono stato dieci anni in Unilever l'Inanè c'è il feature officer fa il CEO di Chanel e chiacchierando dicevo ma se noi veramente saremo in grado di diventare dei change maker di portare le persone al centro dell'azienda di business avremo un domani noi come Char avremo l'autorevolezza la capacità di parlare di business di capirlo eccetera avremo noi come Char le stesse chance che oggi ha un CMO un CFO un CEO di diventare dei capi azienda lascio questo punto interrogativo ma questo è anche una grande opportunità giusto grazie mille grazie mille